Diego, questa sera l'importante era vincere, ci siete riusciti con una prestazione di squadra convincente soprattutto nella seconda parte del match. Sì, questo penso sia frutto di una settimana dove abbiamo lavorato molto, dove siamo stati molto concentrati su quello che era l'obiettivo, anche perché venivamo da una sconfitta pesante e questo sinceramente ci bruciava molto, quindi in questa settimana abbiamo lavorato duro e infatti domenica penso che si sia visto e penso che abbiamo fatto un'ottima gara tutti insieme. Ti abbiamo ammirato già in precedenti gari ma oggi sei riuscito anche a colpire dall'arco 4 le conclusioni da tre punte andate a segno. A livello di condizione generale come stai? Bene, anche se ho avuto giorni migliori perché ho avuto un virus intestinale pochi giorni fa e quindi non stavo in ottima formazione, però oggi abbiamo fatto una grande gara e tutti i miei compagni, soprattutto in difesa perché penso che siamo stati bravissimi a maggior ragione nel terzo e quarto quarto dove siamo riusciti a fare quel parziale che poi ci ha permesso di mantenere quel vantaggio che ci ha permesso di vincere la partita. Questa è una prestazione molto importante anche in vista del prossimo confronto che vi attende a Pistoia contro la Giorgio Tesi Group. Sì, ora ci dobbiamo godere la vittoria perché è importante come è anche importante quando ti brucia per una sconfitta, quindi questa sera ci godiamo la vittoria e già da domani sappiamo che dobbiamo affrontare una settimana importante e penso che sia fondamentale vedere partita dopo partita, quindi preparare partita dopo partita.